Ciao ragazzi, un saluto da Vrozza, oggi sono vestito di giallo perché questa città mi riempie di tantissima energia qui terremo i master in e-translator e in finance and banking perché Vrozza? Perché come vedete è bellissima e meravigliosa secondo motivo perché è The Meeting Place, la città degli incontri inoltre capitale della cultura 2016 e lascia il testimone a materia e dulcis in fondo, terzo motivo perché c'è il 97% di occupati quindi solo il 3% di disoccupazione cosa significa? Che chi vuol lavorare, lavora e chi vuol fare lo sfigato, continua a fare lo sfigato ragazzi, venite a Vrozza, venite in Palonia la città dei Malocchi, ciao!